Si sta animando in Abruzzo una politica propagandistica che cerca di deviare dal merito questa competizione elettorale. I ministri sono venuti almeno 30 volte nella nostra regione perché sono preoccupati dalla forza del progetto che abbiamo messo in campo. Credo che la crisi politica che investe il governo giallo-verde è evidente e Lega e 5 Stelle proiettano in Abruzzo quello che è un conflitto insanabile che porterà a nuove elezioni dopo le europee. E' un vero e proprio Giaccusa, centrodestra e 5 Stelle quello di Giovanni Legnini che resta fiducioso sulla sua vittoria alle regionali di domenica prossima. Lega e 5 Stelle litigano a Roma e proiettano sul loro campo di battaglia che è l'Abruzzo i loro conflitti, maschera le divisioni enormi che ci sono nel centrodestra che loro provano a ricomporre occultando, nascondendo qual è la posta in gioco in Abruzzo che chi farà il presidente, se sarò io, se sarà Marsiglio o se sarà la Marcozzi e non gli affari e le vicende dei partiti romani. Noi abbiamo presentato solo progetti concreti, siamo portatori di un progetto forte, affidabile, credibile, abbiamo incontrato decine di migliaia di cittadini abruzzesi, cresce la fiducia, cresce il sostegno per i nostri candidati e per la mia candidatura e siamo fiduciosi sulla vittoria finale. Se stanno sempre qui, se sono venuti più di 30 volte, se hanno impiegato quasi 50 giorni del tempo che avrebbero dovuto dedicare al governo, agli interessi nazionali perché sono preoccupati e perché vogliono mettere in ombra la scelta di una candidatura, quella del senatore Massiglio che come è noto appartiene alla destra romana, a Roma è nato, è cresciuto, ha fatto politica e non si capisce perché possa essere proposto, come possa guidare la nostra regione.